Theodoros Christopoulos è un abitante di Mati, in Grecia, una delle località più devastate dagli incendi che hanno distrutto il paese, vicino ad Atene, provocando almeno 79 morti. Qui ci sono state numerose vittime e sono stati ritrovati 26 corpi carbonizzati, abbracciati nell'estremo tentativo di proteggersi. Lui è scampato alle fiamme e racconta l'inferno che ha vissuto. È stato tutto così veloce, rapido. Ho visto arrivare le fiamme in poco tempo e sono corso in casa. Ho chiuso le persiane, le porte, tutto. I muri bianchi della sua casa sono diventati neri. L'incendio è arrivato fino all'ingresso. Ha distrutto l'entrata. Intorno, alberi bruciati e sterpaglie. È quasi un miracolo che si è sopravvissuto. Ora sto verificando i danni. Non so quello che accadrà dopo, dice. Mi sento esausto e sono triste per questa terribile tragedia.